La sfida si fa importante. Era praticamente per terra, disarcionato. Sbagliare non è permesso. Con un colpo di gara riuscita a riprendere il controllo della sua KTM, anche questa è motocross. I centauri del motocross tricolore si sfidano sul circuito Castellarano Cross Valley per il quinto round del campionato italiano MX1-MX2. Fantattica gara, le entrate spettacolari. E questo è il bello di questo sport. Campionato italiano MX1-MX2 live domenica 19 luglio dalle 14.20 solo su nuvolari.tv e sporttelevision.it